Buongiorno a tutti, sono Alberto Iseppi di Scagna Italia. Anche quest'anno Scagna sarà presente a Rimini, alla Fiera Ecomondo, dal 5 all'8 novembre. Venite a trovarci, avrete l'occasione di toccare con mano le numerose soluzioni che Scagna mette in campo per questo settore così strategico ed importante. Avrete la possibilità di vedere soluzioni e prodotti veramente innovativi. La nuova piattaforma Scagna, alimentata a biometano, soluzioni elettriche, ma anche tutti i servizi, servizi di connettività, servizi di gestione della flotta, i nuovi pacchetti di manutenzione e riparazione Scagna 360, ma anche servizi assicurativi, servizi finanziari e per chi lo vuole anche una consulenza sulle soluzioni di ricarica. Vi aspettiamo ad Ecomondo a Rimini dal 5 all'8 novembre.